ah bella, bella la campagna italiana, bella, bella, sì, sì che sei francese? eh sì, sono francese dalla Francia di venire qui sì, sono qui perché è bella questa campagna ma la Francia, la campagna della Francia devo mettere la Francia con l'Italia, ma è meglio l'Italia, no dai l'Italia è meglio ma voi mangiate la marmellata francese che vi mandiamo noi lo sai come la facciamo? noi mangiamo la frutta e poi con i noccioli e con la scozza si chiama così noi la scutiamo e ci facciamo la marmellata che voi mangiate voi italiani e poi, e poi il famoso champagne della seconda categoria noi mangiamo gli acini dell'uva poi li sputtiamo e ci facciamo lo champagne che voi bevete eh, vabbè dai lo sai che noi che ci facciamo con i preservativi usati? eh ci facciamo i chewing gum i chewing gum? eh e poi lo sai dove li vendiamo? e tu li vendiamo tutti allo mercato francese e tu sai come Bartoli? jenzi Studia caro